Dalla regione due bandi pronti a garantire una boccata d'ossigeno al mondo agricolo locale. A comunicare la disponibilità di preziose risorse è il vicepresidente della provincia con Delegale Agricoltura Cristiana Borromini. Il primo bando da 8 milioni di euro riguarda il sostegno alla creazione e allo sviluppo di attività per la produzione di energia. A disposizione delle aziende agricole contributi in conto capitale pari al 40% rispetto alla spesa ammessa e dal 50% per i giovani imprenditori fino ad un massimo di un milione di euro. Il bando finanzia la realizzazione di impianti di vario tipo per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas o a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas che usano solo matrici no food, impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento, fotovoltaici della tipologia di integrazione architettonica totale, per la produzione di energia idroelettrica con acque già derivate che defluiscono lungo canali esistenti o in acquedotti di montagna. Oltre alla realizzazione di sistemi di recupero di biogas dagli stoccaggi finali di strutture aziendali e alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano, le domande per accedere al bando dovranno essere presentate entro il 7 luglio. Ma non finisce qui. Borromini annuncia inoltre lo stanziamento da parte della regione di 6 milioni e mezzo di euro per la realizzazione e lo sviluppo delle attività agrituristiche attraverso un bando inserito nel programma di sviluppo rurale tra le misure a sostegno della creazione e dello sviluppo di attività extraagricole. L'obiettivo è quello di sostenere la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione dei servizi per migliorare le prestazioni economiche delle aziende stesse. Previsti i contributi del 45% della spesa ammessa, finanziamento il 55% per i giovani agricoltori, fino ad un massimo di 200 mila euro. La provincia di Sondrio, classificata come zona rurale, può contare sulla priorità di finanziamento tra gli interventi ammessi, la ristrutturazione di fabbricati esistenti da destinare ad uso agrituristico, l'allestimento di aree per l'agricampeggio, la realizzazione di percorsi pedonali e ipoturistici. Le domande si possono presentare a partire dal 7 luglio fino all'11 di settembre. Regione Lombardia, sottolinea Borromini, offre con questi bandi importanti opportunità sia a sostegno delle aziende agricole costrette al contenimento dei costi e all'ottimizzazione delle risorse a disposizione, a cominciare da quelle che possono sfruttare la produzione di energia per l'autoconsumo o per la vendita sul mercato, sia a chi svolge attività di agriturismo con azioni che consentono da una parte di integrare il reddito aziendale e dall'altra di valorizzare le proprie produzioni, promuovendola ad un pubblico in costante crescita.